Allora, eccoci insieme, stiamo parlando delle convenzioni, abbiamo visto quali, quante sono con federal contribuenti, ma adesso entriamo sempre più nel merito con il supporto di alcune slide e anche di un filmato che ci fa vedere il mondo di cashback, cioè quindi i soldi che tornano indietro, il risparmio, non è un risparmio autogestito perché sostanzialmente c'è una gestione con partecipazione con l'azienda che aderisce, quindi è un risparmio che viene in qualche modo concordato, però si può arrivare a delle cifre importanti, io dicevo nel mondo, vediamo un attimo anche le slide che abbiamo, quali e quanti paesi, è un po' come è incominciata la storia, quindi spieghiamolo bene. La storia è iniziata in Austria, con un diciamo... Eccolo qua, la cartina geografica. Il fondatore di questa idea è un austriaco e ha avuto l'idea nel suo paese, dopodiché dall'Austria con una logica, noi chiamiamo di network, il nostro sviluppo è proprio tramite il passaparola, quindi con una logica di diffusione a passaparola, passatemi il termine, è arrivato in 47 nazioni, quindi oggi in ogni nazione c'è una sede... Poi siamo presenti negli Stati Uniti e anche in Australia, in India e nei paesi più lontani. In ogni nazione c'è una sede fisica, qui in Italia siamo presenti a Somma Campagna, c'è una sede tra l'altro stata rinnovata da poco. Come mai è Somma Campagna? Somma Campagna... ma non c'è un motivo particolare, forse perché sulla Brennero, più vicino all'Austria... Non c'è una sede di Roma e Milano, invece stavolta... No, lì Verona, perché diciamo è un po' più austriaca, come possiamo dire così. Poi da Verona è iniziato il diffondersi di questa filosofia di cashback, quindi Verona per esempio abbiamo moltissime aziende convenzionate, poi da Verona si si è allargati su tutta la penisola, al nord ci sono tantissime aziende che hanno aderito, al centro-sud stanno crescendo rapidamente, oggi cresciamo di 400 circa partite IVA, negozi, che aderiscono al mese. 400 partite IVA a negozi, aderiscono ogni mese. Ma caspita, sono numeri... In crescita. Importanti. Ma negozi o anche servizi? Negozi intendo attività, cioè qualsiasi cosa può essere venduta nel nostro circuito. escludiamo solo per etica dell'azienda i giochi d'azzardo, tutto il resto può essere introdotto, può inserirsi, può aderire, può convenzionarsi dalla farmacia al parrucchiere, al concessionario di auto... Quindi anche autoveicolo, cioè potrebbe essere una concessionaria che aderisce e quindi applica uno sconto. questo principio del cashback anche su importi importanti, l'agenzia viaggi per stare su cifre più elevate, cliniche mediche, quindi anche il mondo della sanità, ma inteso come sanità privata, può aderire al circuito, abbiamo diversi casi, anche a Padova, visto che siamo qui in questa città. questo è anche molto interessante, perché poi purtroppo della sanità moltissimi hanno bisogno. Potrebbe essere che al di là della convenzione che uno fa con Feder Contribuenti dell'assicurazione, no, che magari riceve uno storno importante, però magari deve fare delle analisi, qualche cosa, una terapia riabilitativa, protesi dentarie, eccetera, se è convenzionata può avere anche uno sconto... Anche il dentista, abbiamo alcuni casi, diversi casi ormai, sia nel Veneto che in tutta Italia. E la logica, la filosofia è identica in tutte le 47 nazioni, cioè con la card di Feder Contribuenti piuttosto che di una farmacia che la emette, perché viene regalata ai clienti questa card dai negozi, viene regalata, con questa card posso risparmiare in farmacia, ma anche andare, prendermi in volo, andare a Londra e risparmiare anche a Londra. Basta trovare con l'applicazione quali sono i negozi, l'applicazione è appunto georeferenzia, trova i negozi e la filosofia è identica in tutti i paesi. Da per dovunque, c'è maggiore adesione e maggior propensione tendenziale all'estero o in Italia? Ma l'Italia sta crescendo in maniera molto più veloce rispetto che ad altre nazioni. Cioè è partita l'Italia e è partita dopo, però gli italiani sono anche forse più propensi all'innovazione e quindi la crescita ha fatto superare altre nazioni europee. Che invece avevano iniziato già prima. Sì, che avevano iniziato prima, quindi stiamo andando più veloci. Un paese che dà molte soddisfazioni qual è? Più l'Europa oppure da altre parti? Ma adesso più l'Europa in questo momento, si sta sviluppando bene anche gli Stati Uniti, si sta creando lì un buon vaccino per fare un sviluppo importante, però l'Europa in questo momento è quella che dà più risultati, ma solo perché è partita prima. Noi diciamo sempre al nostro interno è solo questione di tempo, non è questione di sé, ma solo di quando, cioè quando inizia lo sviluppo, che viene fatto da noi. Buona comunicazione, poi anche di buoni accordi, anche loro sono ad esempio un accordo importante che può far leva, può far leva su... La credibilità diventa importantissima. E numeri, per i contribuenti muove a tanti associati, tante imprese associate che possono aderire. Per chi aderiscono le aziende, questo è importante. Infatti stavo dicendo ma qual è la convenienza per le aziende, poi vediamo anche quanto costa fare un'eventuale estera, perché il cittadino dice sì, quanto mi costa. Sì, per precisare, al cliente che la disceva non costa nulla, l'abbiamo già detto prima, è totalmente gratuito. Perché le aziende... La può ricevere dalla Feder Contribuenti, la può ricevere dal negoziante. Però con Feder Contribuenti uno deve pagare l'iscrizione, giusto? Ma non c'entra niente la tessera... Non c'entra niente però il vantaggio è implicito. Il vantaggio è abbinato alla nostra tessera. Sì, sì, ma comunque perché uno non pensi che la tessera la riceve... Viene personalizzata perché noi abbiamo l'accordo con cashback. Chiunque dei nostri associati ha già cashback... Le aziende perché si devono convenzionare? È un vantaggio importante, noi abbiamo esteso. Sì, ecco c'è una slide. Sono sintetizzati qui i punti. Perché 400 al mese? Perché tre mesi fa erano 250? Perché sono in crescita le richieste? Perché abbiamo ormai dimostrato che quei cinque punti che sono nella slide stiamo rispettando quello che è l'impegno fatto verso queste aziende che si affacciano al nostro mondo. In sostanza cosa succede? C'è un aumento del fatturato per un semplice motivo. Ogni azienda che si convenziona viene resa visibile a una popolazione di tesserati che è sempre in crescita. Quindi molto semplice. Vengono visti ed è probabile che arrivino dentro il proprio negozio. Ogni negozio può fare la propria card come l'ha fatta Fedecontribuenti a livello di associazione. Però anche il farmacista o le realtà che dicevamo prima possono costruire, far costruire a Cashback World la propria tessera col proprio logo e regalarla ai clienti. Quindi fidelizzano i clienti. Dietro questa card c'è un gestionale molto potente per gestire poi il contatto col cliente. Cioè spieghiamolo bene cosa vuol dire un gestionale. Gestionale vuol dire che... Magari per le persone che non hanno tanta confidenza in certi termini. Vuol dire che quando io ho questa card chi me l'ha data quindi il mio farmacista stiamo sulla farmacia avrà di me il mio nome e cognome il numero di cellulare la mail. Certo. Quindi potrà se vuole magari comunicare con me quindi dirmi che c'è un'offerta in negozio vieni in negozio che c'è un'offerta quindi tenermi al corrente di ciò che c'è per lui. Quindi questa è la bonus marketing in certo qual modo. Il bonus marketing è un'altra cosa molto interessante. Queste card dicevo prima possono essere usate in tutti i negozi. Cioè la card le fiere contribuenti piuttosto che quella del farmacista può essere usata in tutti i negozi in tutto il mondo. Cosa succede? Quando la card viene regalata al proprio cliente il cliente può andare a spendere in giro nel mondo usando questa tessera. il beneficio di chi l'ha emessa è che riceverà si chiama bonus marketing è un regalo diciamo da parte delle altre aziende dove andare a spendere il cliente un regalo verso chi l'ha emessa di un 1% fino a un 1% di ciò che spenderà quel cliente. È un passaparola remunerato. Una specie di piramide insomma. Sì piramide non è un termine adatto è un network quindi un passaparola strutturato che premia solo solo due passaparola quindi non si confondiamo con altre cose che non sono legali questo è un sistema legale e proprio per il fatto che viene premiato c'è un limite quindi l'1% viene omaggiato a chi ha segnalato a chi ha fatto l'emissione della card. Questo si può vedere bene nelle società non profit come nostra che nostri associati quando fanno la spesa in giro aiutano anche la nostra associazione ma ancora più evidente nelle squadre di calcio che recentemente hanno convenzionato una importante società di calcio. Sì appunto questo è un altro capitolo che possiamo aprire cosa fa Cashback World oltre a ricevere aziende che vogliono convenzionarsi per i motivi per i vantaggi che abbiamo detto prima aiuta le aziende in un termine diciamo in un modo intelligente perché va a fare accordi con grandi società sportive facendo questi accordi con le grandi società sportive fa in modo che le società sportive emettano la tessera Cashback World dai propri tifosi. Allora l'ultimo accordo che abbiamo fatto è con la Roma la S Roma cosa succede? Il romanista riceverà in tasca questa tessera della Roma quindi scaricherà l'applicazione della Roma ma in realtà è sempre Cashback World e troverà ancora quella farmacia di cui parlavamo prima all'interno dell'applicazione quindi noi generiamo consumatori a favore delle aziende che sono già in convenzione. Perfetto un attimo se lo chiedo alla regia se ci rimettono in onda il messaggio che era arrivato mentre lei stava parlando la tutela legale mi interessa quali sono gli ambiti di applicazione sino a che importo va a coprire quanto il costo annuale questo punto Rocchi la tutela legale è compresa con la polizza casa feder contribuenti che copre tutte le controversie legate di diversa tipologia e arriva a fino a 90 mila euro quanto costa fare questa assicurazione all'anno? all'anno l'assicurazione costa 27 euro l'anno e ha i suoi limiti per ciascuna delle voci per quanto riguarda copertura assicurativa la tutela legale viene guardata per ogni singola voce perciò non è che andiamo a fare delle cause in giro ma per qualsiasi esigenza del nostro associato viene seguito da punto di vista legale questo è questa è la cosa però già c'è un altro messaggio per partecipare a questo progetto le aziende devono pagare una quota allora la feder contribuenti è una società non profit vive dalle donazioni dei nostri associati piuttosto le società che vengono certificate qua c'è un'attività che viene fatta dai nostri esperti che valutiamo il contratto con quale le società prestano i servizi che deve essere in massima trasparenza si impegnano di rispettare le politiche di feder contribuenti che sono quelle di comportarsi da buon padre di famiglia di uscire in maniera non molesta nei confronti del cliente informarlo di tutti i vantaggi e quando il cliente è pronto di fare il contratto e seguirlo siamo noi a monitorarlo ma siamo noi a dare un timbro alla società convenzionata con quale può dimostrare che i propri dipendenti sono autorizzati i propri dipendenti hanno nome e cognome e si comportano allora le società pagano un fee di ingresso che ricopre tutto l'anno di questo servizio poi ci sono i benefici di questo perché le società come entrano a far parte dei feder contribuenti hanno il diritto di prestare i servizi presso i nostri associati perciò si trovano un pacchetto di clienti che li ricevono non sono newsletter mandate in giro in maniera anonima anche chi li riceve sa di averli ricevuto delle società convenzionate feder contribuenti perché programmano all'appuntamento li ricevono per ascoltare da un soggetto accreditato qualificato le proposte perché troppa difidenza ti porta a chiuderti e non stare al passo delle evoluzioni del mercato perciò naturalmente bisogna anche difidare perché ce ne sono in giro delle anomalie se invece la domanda fosse stata rivolta a cashback sì c'è una una quota perché mi è venuto il dubbio che la cosa non è stato chiarito bene potrebbe essere una cosa potrebbe essere anche la giusto chiarire sia per l'aspetto nostro invece per cashback per aderire al progetto cashback world c'è una quota di adesione un ingresso una volta sola quindi si paga un una tantum come si dice una volta nella vita che può andare dai 399 euro più IVA ai 999 euro più IVA a seconda di uno dei tre pacchetti ci sono tre possibilità di ingresso secondo di quanto uno vuole fare poi marketing cioè di quanto uno vuole poi comunicare con i clienti questo per le aziende questo per le aziende è un gestionale è una gestione dei flussi di cassa tutto comprende in questa quota è tutto tutto compreso non ci sono altre spese se non poi un canone mensile se si vuole avere di più si vuole avere di più quindi comunicare con i clienti che avranno la tessera in tasca c'è un canone mensile che varia dai 29,90 euro ai 69,90 euro ecco però il servizio che viene fornito di che tipologia è? perché stavo dal punto che diceva c'è tutto un sistema gestionale c'è un'attività è molto evoluto il sistema il motore che sta alla base di tutto anche qui un altro termine inglese però si chiama così il gestionale è Salesforce che è una multinazionale anche lei che eroga tramite noi questo programma questo software che gestisce tutto il sistema perfetto noi abbiamo è un sistema di marketing in molte volte tutti i pacchetti che loro propongono per renderci conto a chi può essere interessante obiezioni dei clienti perché a noi interessa che la cashback world si comporti come tutte le altre società convenzionate con feder contribuenti abbiamo esaminato come esaminiamo con le altre società che prestano servizi di vendita di energia piuttosto piuttosto nel specifico gli esperti hanno visionato tutti questi pacchetti che sono stati giustificati e ponderati nella validità nel servizio che danno perfetto pubblicità rapidissime poi torniamo ancora insieme grazie 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 a tutti.